Tra le curiosità conservate nell'archivio di Stato del 1903, l'interminabile elenco dei componenti l'Associazione della Stampa accreditati ai festeggiamenti, elenco che potrebbe sembrare un arito inventario di nomi, e che ci fa capire, invece, quale importanza ed europeo avesse Barletta e le iniziative, che da questa città erano organizzate agli inizi del secolo scorso. Vogliamo concludere con una nota frivola ma esplicativa del clima, che si viveva nei primi anni del Novecento. Parliamo cioè del menù, scritto rigorosamente in francese, preparato per la cena ufficiale ad invito tenutasi il 13 febbraio 1903 nella sala superiore del Teatro Curce alla quale per parteciparvi bisognava presentarsi con grande uniforme e con decorazioni. Marsina e cravatta bianca con decorazioni Non riportiamo il menù per intero ma segnaliamo il consomme alla Brunoise, poi sono all'italienne, bombe a accento grave legate a un victoire. Naturalmente il tutto annaffiato da capri bianco, medocamo e tetcandone.